Cassino. Stazione di Cassino. Il treno regionale 12413 di Trenitalia delle ore 7.05 per Napoli centrale è in partenza dal binario 1 invece che dal binario 5. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce 2496 di Trenitalia proveniente da Caserta e diretto a Roma termini delle ore 7.11 e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Roccasecca, Frosinone, Colle Ferrosigni Paliano. Il treno regionale 2352 di Trenitalia proveniente da Campobasso e diretto a Roma termini delle ore 7.28 e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale 7527 di Trenitalia delle ore 7.36 proveniente da Roma termini e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 2349 di Trenitalia è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 2349 di Trenitalia proveniente da Roma termini e diretto a Campobasso delle ore 7.41 e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Venafro, Isernia, Cardinone, Boiano. Il treno regionale 74-71 di Trenitalia delle ore 7.55 proveniente da Avezzano è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 75-40 di Trenitalia delle ore 8.05 per Roma termini e in partenza dal binario 1. Ferma a Roccasecca, Frosinone, Colle Ferrosigni, Paliano, Zagarolo, Tor Vergata. Il treno regionale 75-29 di Trenitalia delle ore 8.24 proveniente da Roma termini e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 23-00 di Trenitalia proveniente da Benevento è diretto a Roma termini delle ore 8.34 e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Frosinone. Il treno regionale 23-00 di Trenitalia delle ore 8.37 per Roma termini e in partenza dal binario 3. Ferma a Frosinone. Il treno regionale 26-140 di Trenitalia delle ore 8.47 proveniente da Caserta è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 12-415 di Trenitalia delle ore 8.49 per Napoli Centrale è in partenza dal binario 4. Ferma in tutte le stazioni eccetto Fontanarosa. Il treno regionale 74-73 di Trenitalia delle ore 9.04 proveniente da Avezzano è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno intercity 703 di Trenitalia proveniente da Roma Termini è diretto a Bari Centrale delle ore 9.10 e in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Bairano, Caserta, Telese, Cerreto, Benevento, Ariano, Irpino, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta. Carrozze dalla 2 alla 3 in testa al treno, dalla 4 alla 5 centro treno, dalla 6 alla 8 coda treno. Il treno regionale veloce 75-42 di Trenitalia delle ore 9.13 per Roma Termini è in partenza dal binario 1. Ferma a Piedimonte Villa Santa Lucia Quino, Roccasecca, Isoletta San Giovanni in carico, Ceprano Falvaterra, Castro Pofi, Ceccano, Frosinone, Colle Ferrosini, Valiano, Valmontone, Zagarolo. Il treno regionale 23-60 di Trenitalia, proveniente da Campobasso, è diretto a Roma Termini, delle ore 10 e 18, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale 74-82 di Trenitalia, delle ore 13.57 per Avezzano, è in partenza dal binario 3, invece che dal binario 5. Ferma a Piedimonte Villa Santa Lucia Quino, Roccasecca, Colfelice, Arce, Fontana Liri Inferiore, Santo Padre, Arpino, Isola Liri, Sora, Balsorano, Rocca Vivi, San Vincenzo Valle Roveto, Civita Dantino Morino, Civitella Roveto, Canistro, Capistrello. Il treno regionale 23-64 di Trenitalia, proveniente da Campobasso, è diretto a Roma Tiburtina, delle ore 14 e 17, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale 75-50 di Trenitalia, delle ore 14.22 per Roma Termini, è in partenza dal binario 1. Ferma a Piedimonte Villa Santa Lucia Quino, Roccasecca, Isoletta San Giovanni Incarico, Ceprano Falvaterra, Castro Pofi, Ceccano, Frosinone, Ferntino Supino, Ananni Fiuggi, Colle Ferrosegni, Paliano, Valmontone, Zagarolo, Ciampino. Il treno regionale 75-39 di Trenitalia, delle ore 14.40, proveniente da Roma Termini, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 23-57 di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Campobasso, delle ore 14.45, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Venafro, Isernia, Carpinone, Boiano, Vinchiaturo. Il treno regionale 23-68 di Trenitalia, proveniente da Campobasso, è diretto a Roma Termini, delle ore 15.50, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale 12-4-2-4 di Trenitalia, delle ore 19.47, proveniente da Napoli Centrale, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 75-62, di Trenitalia, delle ore 20.18, per Roma Termini, è in partenza dal binario 5, invece che dal binario 1. Ferma in tutte le stazioni eccetto Capannelle. Allontanarsi dalla linea gialla.